Il 14 febbraio, come da tradizione, si rinnovano i festeggiamenti per San Valentino. La festa degli innamorati prende il nome dal santo e martire cristiano Valentino da Terni, morto proprio il 14 febbraio del 269 e venne istituita nel 496 da Papa Gelasio I, che la sostituì alla precedente festa pagana dei Lupercalia, celebrata in onore del Dio Fauno, protettore del bestiame ovino e caprino. Sono tante le leggende che riguardano il santo e tutte fanno riferimento ad aiuti e protezioni del vescovo di Terni a beneficio di coppie, tanto da farne il protettore degli innamorati. Lo scambio di valentine, biglietti d'amore spesso sagomati nella forma di cuori stilizzati, tipici della rappresentazione popolare dell'amore romantico, risale invece al XIX secolo e nel tempo ha alimentato la produzione industriale e la commercializzazione su vasta scala di biglietti d'auguri dedicati a questa ricorrenza. In Abruzzo, a Torrevecchia Tiatina, c'è un luogo che celebra l'amore non solo il 14 febbraio. È il Museo della Lettera d'Amore, inaugurato il 9 agosto del 2012 all'interno del Palazzo Settecentesco del Marchese Valignani, che oggi, insieme all'Associazione Abruzziamoci, ha organizzato una giornata ricca di eventi a tema, tra conferenze, letture, incontri con poeti, artisti e musicisti. Massimo Pamio, direttore del Museo Lettera d'Amore. Com'è nata nel 2012 l'idea di questo Museo della Lettera d'Amore? Il Museo della Lettera d'Amore nasce proprio da una storia personale che è legata a me e mia moglie, che ci scriviamo delle lettere d'amore e poi appunto ci siamo sposati e abbiamo promosso una casa editrice, un'associazione culturale, mediante cui abbiamo fatto diverse iniziative, tra cui questo è proprio del Premio Lettera d'Amore. Sono arrivate 25.000 lettere sia col premio e sia in donazione a epistolari storici, addirittura uno risalente alla Prima Guerra Mondiale, e sono in arrivo altri epistolari. Ne è arrivato di recente uno di 2.000 lettere provenienti dalla Germania e è arrivato un epistolario dalla Francia. Il nostro museo ha fatto il giro del mondo, veramente, anche perché siamo l'unico museo della Lettera d'Amore al mondo, ma siamo anche per promuovere un'iniziativa sui messaggi d'amore. Vogliamo raccogliere messaggi d'amore da tutto il mondo, da tutti i continenti, per poi portarli nei luoghi abbisognevoli. E parliamo dei luoghi, purtroppo, dove ci sono popoli sfortunati, come il popolo palestinese a Gaza o il popolo ucraino a Mariupol. Quindi queste forse saranno due sedi che saranno interessate dai messaggi d'amore che staremo raccogliendo. La lettera più antica? Fino a poco tempo fa la lettera più antica era del 1830, una lettera addirittura in cui si parlava di un'epidemia. Ma addirittura abbiamo, tramite mercatini antiquari, siamo risaliti a trovare delle lettere d'amore del 1700. La lettera più curiosa, quella più particolare? La lettera che ci è stata donata dai Papa Boys, riguardante, insomma, una testimonianza di Giovanni Paolo II, in cui si racconta di un mafioso che addirittura si è convertito il giorno della cerimonia funebbre di Giovanni Paolo II e ha scritto una lettera d'amore che noi conserviamo. E oggi, visto che San Valentino è ovviamente un giorno speciale per il Museo della Lettera d'Amore, avete organizzato un ricco calendario di eventi? Tantissimi gli appuntamenti, ma soprattutto questa mattina e nel pomeriggio abbiamo bandito insieme con l'amministrazione comunale la 24esima edizione del Primo della Lettera d'Amore a cui partecipiamo e invitiamo a partecipare tutti quelli che appunto vogliono ancora scrivere d'amore. Francesco Seccia, sindaco di Torre Vecchia Teatina. Per noi è ovviamente un'occasione per farci conoscere in tutto il mondo e il Museo della Lettera d'Amore in questo ha contribuito enormemente. Tra i visitatori del museo anche tanti studenti. Ma oggi si iscrivono ancora alle lettere d'amore? Non ho mai scritto la lettere d'amore. Uno usa i social quindi alla fine si è un po' persa questa cosa. Al mio fidanzato. Non mi sono mai trovato a scriverla. Non ho mai scritto però... Un bel gesto. E come si scrive? Io preferisco scriverla appena in questi casi. A chi si dedicano le lettere d'amore? Molto spesso ai genitori e anche comunque al proprio fidanzato, la fidanzata, mogli, mariti, dipende insomma. Buon San Valentino allora!